Uccidilo, uccidilo! Così rientriamo, uccidilo! La matriarca è bravo. Oddio, non vi conoscevo, matriarca. Ma è tutto... c'è tutto scarico, porco. Questo pure, c'era meno di te questo. Attento! Mi puntano! Ti stanno proprio sopra, occhio che da qua ti prendo, no? Occhio che da qua ti prendo, no? Sì, sì, sì. Vai, siamo rientrati, siamo rientrati. Ritorni in campo, forza, va e... Eh, ma ci hai fatto ripartire all'altra parte. Che dobbiamo fare guida? La matriarca ha toccato. Tocca abbatterarla! Ma ti spara, ti spara, ti spara, rimarca la casca e ti ritorni. Davo. Mamma. Mi hanno cecchinato! Mi hai visto. Mi hanno cecchinato! Mori, muori, 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 muori! Uccidi, muori, muori, muori! Uccidi, muori, 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 muori! Figlio di una grandissima puttana! Cassa in avvicinamento! Nuova zona sicura! I tuoi compagni sono morti! Ma sono fatti in tempo? No! No! Massima, attenzione! Un team nemico... Non a me ne do, cazzo, vadano! Li uniti siamo? I rinforzi sono in arrivo! Occhio, c'è gente, c'è gente, mi sai Oddio, ma no, no Nooo, è malo patriarca, è una caccia, con gli ultimi dispari erano per la rabbia Resta, resta, resta Te lo comendo di scegliere qua, c'è gente, la voce qui E' una nuova, c'è gente, via, 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 via Ce l'ha arrivato, ce l'ha arrivato Che c'è Il cesore, il cesore Nooo Allora, non mi lasciare solo Parese che stiamo a scappare i fantasmi Sono qua sotto No, no, mettiti in basso, Chris, mettiti in basso Sta arrivando un nemico! Attenzione in alto! Ahahahah Non ce la fai! 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 Ma direi che deve morire Vai, vai un cazzo! Nooo Oì Non ce la fai! Oh! Le che stia! Oh my God!